Ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo video Quest'oggi andiamo a vedere, come vedete da titolo, un nuovo setting bot special Questo vuol dire che andiamo ad analizzare un virtual player interessante e particolare E in questo caso andiamo ad affrontare il centrocampista Lo abbiamo chiamato il mago e abbiamo anche rintracciato come giocatore che potrebbe rappresentare questa categoria iniesta Questo format di video vi sta molto piacendo Ve lo stiamo portando in questo momento, sapete che portiamo dei setting bot rivisti, studiate a tavola e ben pensati Dopo tutte quelle patch vanno riaggiornati per forza di cose, ogni volta in questo periodo dell'anno E' il tempo del centrocampista, centrocampista avanzato, perché me l'avete chiesto in tantissimi e ve l'abbiamo portato Basta chiacchiere, andiamo a vedere come abbiamo settato queste due versioni del Elmago Mamma mia che build, pronti? Via! Eccoci ragazzi con la prima versione del build, centrocampista mago 1 Vedete la selezione 1 Per quanto riguarda gli attributi, già a destra vedete tutte le stats C.O.C. ruolo, altezza e peso che vedremo tra pochissimo Altezza 1,62x54 kg Piede sinistro perché è il mio preferito Poi per quanto riguarda le caratteristiche, già vedete a sinistra avete un'anticipazione dove ci sono delle sezioni spente come quelle della difesa Perché questo è un centrocampista molto molto flessibile ed utile che cura un po' meno la fase difensiva Deve essere bravissimo a passare la palla, a dribblare e a liberarsi soprattutto dall'avversario Andiamo a vedere le caratteristiche, le sezioni Il fisico qui in maniera un po' anomala particolare Accendiamo le skill points del versante destro con le barre della resistenza Resistenza che con queste tre barrette giunge a quota 85 85 che è raggiungibile da 81, vedete 80-81 Accendendo queste batterie si ha una buonissima resistenza Perché accendere solo queste tre batterie? Perché preferiamo avere comunque una buona resistenza che è uguale a 85 con una forza precaria Ma con una altissima reattività A discapito di altri valori che vedrete più avanti del passaggio, dribbling, velocità ecc Per quanto riguarda l'elevazione non ci interessa tantissimo Anche perché è un bot basso E questo sancisce il non poter colpire di testa ad alte quote A questo punto non accendiamo le skill points E procediamo avanti con un valore comunque basso a 74 Un'aggressività che è uguale a 68 Per quanto riguarda la difesa è tutto spento Abbiamo dei valori che si aggirano tra il 65 e il 70 Valori che ci interessano, ripeto, poco Perché questo è un centrocampista che può viaggiare tranquillamente benissimo Nel ruolo di centrocampista centrale in un 4-2-3 Oppure in un 3-5-2 con i centrocampisti centrali un po' avanzati E proprio per questo hanno un compito veletario per quanto riguarda la fase difensiva Per quanto riguarda invece il dribbling andiamo a vedere dei poti qua a destra Delle stats molto molto importanti Soprattutto per quanto riguarda la velocità Per quanto riguarda il mio di setting Arriva con queste carte accese a 96 Come vedete a destra Di agilità Equilibrio 86 Posizionamento attacco 87 Controllo palla 91 E un dribbling che boosta fino a 96 Per quanto riguarda le skill points Delle mossa abilità Le mettiamo piene a 5 E per quanto riguarda la classe Essendo il mago La accendiamo e quindi si ha la possibilità Di colpi di tacco O anche tocchi difficili di prima L'equilibrio qua la spegniamo con la solita carta del controllo palla Comunque abbiamo dei valori tutti quasi over 90 86, 87 Equilibrio posizionamento attacco Per il resto abbiamo 91 controllo palla E dribbling 96 E uguale agilità Che sono impressionanti Quindi lasciamo così Andiamo ai passaggi E vediamo che abbiamo molte carte accese sul versante sinistro Per conferire la capacità al bot Di effettuare importanti e difficili passaggi lunghi Ma anche quelli corti Per quanto riguarda il valore del cross Aumenta di pochissimo Con una carta di queste accese Ma rimane stabile a 86 Ma basta e avanza Perché comunque quello che ci interessa È il passaggio corto boostato a 95 E il passaggio lungo Che praticamente tocca quasi quota 90 Effetto 87 Credo sia sufficiente Ma soprattutto la visione 87 È un valore molto molto buono Potremo aumentare ancora questi valori Toccando qualcosa qui con le carte Però per ora possiamo lasciare così Per quanto riguarda i tiri Andiamo nella sezione E accendiamo le classiche carte Per il piede debole Piede debole che raggiunge le 5 stelle di skill E ovviamente tutti gli altri valori del tiro Sono comunque eccezionali Perché il tiro della distanza Ha un valore che equivale a 93 E comunque per un centrocampista È un valore altissimo Per quanto riguarda la potenza tiro È un valore basso Ma equivale a tutti i bot attaccanti Bassini Quello comunque è dipendente dall'altezza La finalizzazione comunque è alta Questo vuol dire che è un bot che aiuta Nell'impostare aiuta nei filtranti Ma soprattutto se ha la possibilità di concludere in porta Lo fa in maniera molto molto buona E con delle stats sufficienti Per quanto riguarda le altre carte Non le accenderei Bastano avanzano 5 piede debole Per quanto riguarda invece la velocità Abbiamo tutte le skill points accese Raggiungiamo accelerazione Velocità scatto Over 95 Addirittura Accelerazione Tocca quota 96 Ci sono sempre Sempre le carte accese Tutte tutte per la velocità E non spegniamole Perché veramente sono importantissime Per quanto riguarda invece il portiere Tutto spento Spero che questa build vi sia piaciuta Adesso andiamo a vedere L'ultima cosa Che sono gli attributi Insieme velocemente L'overall 90 Abbiamo tiri 81 Passaggi 89 Dribbling 92 Difesa 63 E fisico 67 Adesso passiamo alla seconda versione del mago Ecco qui siamo nella seconda versione Con la build mago 2 Andiamo a vedere Quello che è il profilo Della build Posizione CC Quindi centrocampista centrale Altezza 1.67 Differente da La prima versione Che è alto 1.62 Peso 54 Quindi Si equivale Piede preferito Sinistro Gli attributi sotto Sono abbastanza diversi Ma soprattutto anche La selezione Delle caratteristiche Proprio perché il CC Differisce dal COC Per alcune stats Come ad esempio Quelle del fisico Nella prima sezione Vediamo che la resistenza Senza accendere alcuna batteria Quindi senza accendere skill points È comunque un valore molto alto 87 Questo vuol dire che se noi Potessimo qua accendere Almeno 3-4 batterie La resistenza Andrebbe over 90 Per quanto riguarda queste stats Comunque abbiamo una forza Che si aggira sui 60 Quello che ci interessa È la reattività Che è comunque molto importante Per un centrocampista centrale Ma soprattutto la resistenza Che di base 87 È un valore Che va benissimo Per quanto riguarda invece La difesa Vediamo che In questo caso Essendo un centrocampista Dedito La fase di possesso Quindi La fase o di contropiede Oppure di impostazione La difesa Lascia a desiderare Però comunque Dei valori Decenti 71 75 81 74 Per intercettazioni E contrasti Che non è male Per quanto riguarda invece La posizione Nel dribbling Nel corto Abbiamo dei valori Molto molto buoni Non come quelli del COC Per alcuni aspetti Un po' dissimili Però comunque eccezionali Abbiamo controllo palla 91 Dribbling 93 E agilità Uguale al dribbling Ossia 93 Equilibrio Non avendo acceso Queste due carte Si stabilizza A quota 83 E abbiamo anche qui 5 mosse abilità Con le stelle E per quanto riguarda Anche tacchie E altro Abbiamo la carta Talento Accesa Per quanto riguarda invece La porzione Dei passaggi Abbiamo praticamente Tutta la sezione Sinistra accesa Con l'ultima carta Del passaggio lungo Spenta Che però Potrebbe essere Una buona opportunità Accendendola Solamente con Il costo Di due punti abilità Avendo un boost Più 3 E raggiungendo Quota 96 Vedremo Vedremo Perché Forse la cosa più importante È accendere Come sempre Le 5 stelle Del piede debole Che ci conferiscono La possibilità di calciare Sia col sinistro Sia col destro Ma stessa cosa Non solo calciare Ma anche servire compagni Con entrambi i piedi Valori Nella finalizzazione Differenti Rispetto al COC Un pochettino Inferiori Ma Comunque È un bot Che potrà Concludere in porta Senza alcun Problema Andiamo a vedere L'ultima sezione Della velocità Accendiamo Tutte le carte Per arrivare A quota 90 92 Sia ad accelerazione Sia a discatto Quindi Queste tutte accese Come sempre E per quanto riguarda La porzione Del portiere Tutto spento Spero che vi sia piaciuta Questa build Adesso andiamo a vedere Infine La parte degli attributi Velocemente Tiri 79 Avete visto Prima Le stats Passaggi 88 Dribbling 90 Difesa 74 E fisico 70 Abbiamo visto Questa build Con overhaul Più basso Quindi 87 Invece che 90 Del COC Spero che vi piaccia Spero che ve la ricreate Ora andiamo ai saluti Anche per questo video ragazzi Abbiamo terminato Quest'oggi Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Attivate qua sotto La campanellina Per questi tipi di video E molti molti altri Mi raccomando Interagite in continuazione Condividete E mettete Le notifiche Tutte tutte attive Perché il ProLab Su Youtube Siamo noi Un abbraccio a Johnny Ciao